Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 30 luglio scorso sono stati approvati su proposta dell'assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutalipassi tre provvedimenti che riguardano la Tari, tassa sui rifiuti 2021, approvazione del PEF Tari 2021, approvazione del regolamento Tari e delle tariffe Tari 2021, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19 ha ritenuto opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, in particolar modo le attività economiche assoggettate a provvedimenti di chiusura nel primo semestre 2021, quali ristoranti, bar, palestre, piscine, impianti sportivi e utilizzando i contributi finanziari statali erogati a tale scopo è stato possibile riconoscere alle stesse una riduzione pari al 55% del dovuto. Tale agevolazione, al fine di semplificare gli adempimenti da parte dei contribuenti, viene applicata ad ufficio senza necessità di presentazione di alcuna istanza e dimostrazione di calo di fatturato. Inoltre è stata incrementata la riduzione riconosciuta per le attività stagionali, quali attività extraalberghiere regolarmente autorizzate e stabilimenti balneari. Infatti per tali attività la percentuale di riduzione passa dal 15% al 45%. Anche per le utenze domestiche, nonostante l'incremento dei costi del servizio, l'amministrazione comunale è riuscita a limitare l'incremento delle tariffe. Altra novità di quest'anno è che il pagamento dei tributi potrà essere eseguito oltre che presso gli uffici postali e sportelli bancari senza debito di spese e di commissioni, utilizzando gli appositi modelli F24 precompilati, anche collegandosi al seguente indirizzo internet www.comune.agropoli.it. Sito ufficiale del Comune di Agropoli e al link Pagopà, pagamenti online, accedendo al pulsante Paga tramite codice avviso Pagopà. I provvedimenti approvati, affermano il sindaco Adamo Coppola e l'assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutalipassi, vanno nella direzione di tendere una mano ai cittadini ed esercenti che hanno vissuto difficoltà a causa della pandemia. Nel contempo abbiamo aggiunto una nuova modalità di pagamento, semplice senza costi, che tende alla semplificazione nei confronti dei contribuenti, ossia verte sul principio che non deve essere complicato ed ulteriormente oneroso per i cittadini pagare i tributi comunali.